buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 19 settembre 2023 si festeggia vediamo nell'almanacco del giorno un santo molto molto noto è molto noto a Napoli ma ovviamente lo è anche da noi è San Gennaro San Gennaro vescovo e martire si dice nato a Benevento ma ovviamente viene molto molto festeggiato a Napoli di cui fu vescovo fu vittima fu vittima della persecuzione di Diocleziano tant'è che San Gennaro visse nella seconda metà del terzo secolo ebbene fu gettato in prigione fu catturato per la sua fede cristiana fu gettato in prigione e fu condannato ad essere internato in una fornace ardente ma pensate ne uscì in leso allora il prefetto decise di mandarlo all'arena all'arena dell'anfiteatro di Pozzuoli per essere dato in pasto alle fiere ma anche in questo caso le fiere si ammansirono e si gettarono ai piedi del santo allora il prefetto tagliò la testa al toro purtroppo in questo caso non era il toro ma era San Gennaro che fu decapitato e il suo sangue fu raccolto e ancora oggi si custodisce nel Duomo in una teca bellissima nel Duomo di Napoli e proprio oggi il sangue dovrebbe sciogliersi è uno dei tre eventi che si verificano ogni anno tre volte all'anno e se non accade sono veramente guai l'ultima volta che il sangue non si è sciolto è stato quando è arrivato il covid speriamo dunque che il sangue di San Gennaro sia propizio per tutti noi e non solo per i napoletani vediamo ora le previsioni del tempo abbiamo un tempo variabile con una nuvolosità irregolare sulle marche con le nubi di passaggio possibili locali brevi fenomeni nelle aree interne centro meridionali sulle coste i venti ispireranno con una tensione debole da sud nell'interno invece da ovest nord ovest le temperature uscinano tra i 21 e i 28 gradi ancora fa caldo anche nelle prime ore del mattino il tempo è molto molto mite e molto insomma fa caldo veramente e siamo ancora in estate mentre l'autunno sta lì per venire tra due giorni ormai siamo in autunno e allora oggi apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove troviamo ancora il comitato di Carignano che è sempre sull'onda della protesta per evitare che continui a emettere i suoi segnali l'antenna che è stata realizzata nei pressi del parcheggio del cimitero alberi veri e non antenne 5g questo è il nome del comitato il comitato ora è stato ricevuto dall'amministrazione comunale è stato ha incontrato l'assessore all'ambiente Cora Fattori alla quale ha chiesto di essere di un contributo essere dalla sua parte per cercare di convincere la ditta si tratta di Iliad che ha istituito eretto questa antenna alta 30 metri del 5g a cambiare sito a trovare un sito più idoneo e il comune cercherà appunto di farlo intanto domani dovrebbe pronunciarsi anche il tar sul ricorso presentato dalla ditta in merito alla localizzazione che è stata prevista dal comune il comune di Fano ha un piano un piano di tutte le antenne quindi ha anche una procedura accelerata rispetto ad altre località e quindi elimina anche molti contenziosi questo purtroppo è arrivato e vedremo domani che cosa deciderà il tar purtroppo la legislazione nazionale è favorevole agli operatori in quanto si tratta di un'opera primaria di urbanizzazione di interesse pubblico ma vediamo vediamo se si raggiungerà un accordo e poi a fondo pagina abbiamo invece un disservizio un disservizio che viene originato da carenze di personale il commissariato di Fano ancora langue per quanto riguarda il suo organico al commissariato di Fano non si può rinnovare il passaporto secondo quanto riferito dal ex primario dell'ospedale Santa Croce di Fano Fiorenzo Gianmattei le liste di prenotazione del del passaporto nel commissariato di Fano sono chiuse in questo momento non si può notare ovviamente se uno ha un biglietto di volo già pronto il passaporto insomma lo trova però insomma uno che deve programmare la vacanza non può al momento trovare un appuntamento secondo quanto riferito dal professionista ed ora parliamo della settimana regionale africana migranti arriva a Donciotti il premio a Mediterranea sono due aspetti che caratterizzano questo evento che è stato sempre che è sempre organizzato dall'associazione l'Africa Chiama la settimana dell'Africa Chiama incentrata sul tema dell'attualità degli sbarchi un tema un tema molto molto attuale in questi giorni ebbene Donciotti sarà a Fano giovedì 28 alle ore 18 nell'ex chiesa del gonfalone in via Rinalducci interverrà sul tema liberi di scegliere se migrare o restare in occasione appunto della giornata mondiale del migrante e del rifugiato le conclusioni a questo incontro saranno tratte dal vescovo di Fano Andrea Andreozzi saranno presenti anche gli amministratori dal sindaco Massimo Seri agli assessori Sara Cucchiarini ripari opportunità e Dimitri Tinti per quanto riguarda il welfare di comunità aiutare gli altri conviene soprattutto dove c'è benessere ha detto Seri i potenti flussi migratori sono dunque considerati un fenomeno da gestire con strumenti diversi dall'inasprimento delle pene argomentato Tinti in risposta alla presidente del consiglio Giorgio Ameloni all'accoglienza insomma dall'inasprimento delle pene all'accoglienza che dovrebbe essere un po' così l'obiettivo di tutti i cristiani e ci sarà anche la Notte Nera una delle iniziative tipiche consolidate della settimana africana che sarà inaugurata la settimana africana domenica 24 alle 16 e 30 in piazza centrale a Fano da dove partirà lo spettacolo itinerante Ganda e il rinoceronte del gruppo teatro delle isole e poi via via tutte le manifestazioni che potrete appunto vedere su questo articolo del Corriere Adriatico. E poi vediamo l'altro articolo che riguarda l'iniziativa consolidata dell'Ios Club di Fano, un poster per la pace. È un concorso bandito tra le scuole medie di Fano che invita i ragazzi a disegnare la loro idea di pace, un concetto che poi verrà premiato con strumenti di carattere didattico e questa iniziativa verrà presentata giovedì prossimo alla Memo dove il club che ha da poco registrato l'avvicendamento alla presidenza tra Simona Rabbi che era la vecchia presidente al nuovo presidente Luca Amadori, in questa iniziativa si illustrerà ad una rappresentante dei ragazzi delle medie il senso e le modalità di svolgimento di questo concorso. Una riflessione poi verrà fatta anche da Marco Labbate, assegnista di ricerca di storia contemporanea dell'Università d'Urbino, appunto una riflessione sul concetto di pace. Vediamo ora quello che accade per quanto riguarda l'ASP, questa nuova azienda che insomma è il rinnovo dell'ambito territoriale numero 6. La Giunta tira dritto, nonostante tutte le obiezioni che sono un po' sorte soprattutto dal terzo settore, 11 consiglieri addirittura resistono, hanno presentato una mozione che sarà così discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale e tra tutti i consiglieri di opposizione ci sono anche due che dovrebbero essere virtualmente di maggioranza. Stefano Marcheggiani del Gruppo Misto e Giampiero Pedini, quest'ultimo ormai molto più schierato all'opposizione che alla maggioranza. Comunque è stata approvata ormai dalla Giunta la delibera riguardante l'Agenzia pubblica per i servizi alla persona. Nella riunione di ieri sono stati votati lo statuto dell'ASP e la convenzione costitutiva per quanto riguarda questo nuovo ente di carattere pubblico. E poi a fondo pagina abbiamo tutto il programma da domani, anzi da oggi in poi, per la settimana della mobilità europea. Una iniziativa che intende appunto promuovere la viabilità dolce, quella delle biciclette, quella pedonale, promuovendo ovviamente più infrastrutture ma soprattutto insistendo su un cambio di mentalità da parte di coloro che appunto usano il traffico della città di Fano. Stamattina gli alunni della scuola Tombari andranno a scuola da soli e vedremo se l'esperimento funzionerà. Comunque oggi ci saranno anche i genitori i quali vedranno, verificheranno i punti d'incontro, poi vedremo se domani, dopodomani e per tutto l'anno scolastico i bambini andranno da soli. Ed ora andiamo nell'entroterra, andiamo nell'entroterra, ci fermiamo un attimo a Pergola dove vediamo che si sta organizzando la Fiera del Tartufo, una delle manifestazioni più importanti non solo di Pergola ma di tutto il territorio. È stato presentato il programma ad Ancona, Roma e nella città gemellata tedesca di Gensbach. Le prime tre domeniche di ottobre, come tradizione, la città di Bronzi Dorati ospiterà la Fiera Nazionale del Tartufo, un'iniziativa di grande impatto economico oltre di forte impatto promozionale. Senigallia. Senigallia è una notizia deludente, ex Hotel Marche, addio sogni di rinascita. Fuori dal bando, niente albergo sportivo, era già stato messo in riserva ed ora anche la riserva è sfumata. Il progetto della provincia e della federazione, escluso dalla graduatoria, moniteremo, questa è stata un po' la dichiarazione di risulta, moniteremo altre gare pubbliche per cercare di trovare una funzione a questo stabile che deve essere appunto rivalutato. Vediamo ora qualche notizia di Pesaro dove l'apertura è dedicata al ponte dei Capucini. Cavalcaferrovia, si abbattano le vecchie barriere protettive, sottopasso a Marche Multiservizi ormai è al photo finish. Vediamo gli ultimi lavori che si stanno eseguendo in questo punto centrale, nevralgico, di traffico pesarese. Le barriere laterali del Cavalcaferrovia de Sabata vanno giù, i calcinacci cadono sulla strada, ma la strada ovviamente è chiusa al traffico e per il sottopasso Marche Multiservizi è addirittura d'arrivo per l'intervento della rete del gas, quindi un progetto che sta andando a compimento. Parroci, incarichi multipli. Il vescovo di Pesaro, anzi l'arcivescovo di Pesaro, Sandro Salvucci, ha reso noto un po' tutti i cambi di destinazione dei parrici e i nuovi incarichi. Ce ne sono molti e non so se riusciamo a deleggerli tutti. Mancano, si sa, mancano i sacerdoti e si cerca di fare di necessità virtù con quelli che ci sono, soprattutto sono sacerdoti che invecchiano sempre più e oltre alla carenza del clero il problema dell'invecchiamento è un altro, purtroppo un altro problema. Mancano i sacerdoti e si fa di necessità virtù così che alcuni parroci diventano uno e tre, insomma, hanno bisogno di gestire più parrocchie, insomma. Vediamo che cosa è stato deciso. Don Antonio Bonizzi, fino ad oggi in aiuto pastorale alla parrocchia di San Martino, viene nominato vicario parrocchiale alla parrocchia di San Pietro in Calibano di Villa Fastigi. Don Enrico Giorgini, parroco di San Pietro, viene anche nominato parroco legale e rappresentante delle parrocchie di San Tommaso in Foglia da Psella e dei Santi Guirico e Giuditta di Montelabate, mentre Don Alois Feche, finora amministratore della parrocchia di San Tommaso di Montelabate, assume l'incarico di aiuto pastorale alla parrocchia di San Pietro in Calibano e poi ancora Don Giuseppe Leone, fino ad oggi parroco di Sandonato a Belvedere, Fogliense e della parrocchia Corpus Domini di Padiglione, assume il ruolo di vicario parrocchiale all'unità pastorale di Pesaro, centro e anche Don Marco di Giorgio, Don Marco di Giorgio è un sacerdote molto noto, non solo a Pesaro, già parroco a Santa Maria Assunta di Montecchio e in Procento di essere nominato nuovo vicario generale di tutta appunto la diocesi e poi tanti altri cambi che potete leggerlo sul giornale. Subito il dragaggio del porto, iter fermo ma i soldi ci sono, fondali troppo bassi, Biancani accusa di immobilismo, l'autorità di sistema. Un altro problema che deve essere risolto, quello del dragaggio che però insomma incontra difficoltà di carattere burocratico. Vediamo alla cronaca, risse fuori dal locale un studente patteggia, rievocati domiciliari per tornare a scuola, questo è stato il risponso del giudice. Si tratta di un ragazzo di 18 anni che era accusato anche di furto e rapina per due episodi avvenuti all'esterno della Baia Imperiale. Ebbene questo è stato un po' il giudizio, speriamo che andare a scuola contribuisca a un cambio di mentalità a chi si avvicina alla trasgressione. Vediamo anche quello che dicono ad Urbino per il quadro del perugino attribuito a Raffaello di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri. Ebbene i giudizi non sono concordi. Al pool di esperti che ha attribuito il quadro a Raffaello si contrappone invece una decisione di un altro pool che proviene da Urbino. È un non Raffaello, tutti concordi, stroncata all'attribuzione del dipinto. Il presidente dell'Accademia di Urbino è categorico. L'annuncio, dice, è un genere letterario. Gallo è una copia. Vediamo Luigi Bravi davanti a Raffaello e il direttore Luigi Gallo, il direttore della Minacoteca Nazionale delle Marche, appunto, d'Urbino che è d'accordo sulla non attribuzione del quadro a Raffaello. Vediamo ora il resto del Carlino, dove l'articolo in apertura è dedicato alla piscina, alla nuova piscina che doveva essere inaugurata in questo mese. Purtroppo ci sono ancora ritardi. Non ci sono ancora, diciamo, perché tutto è proceduto nonostante le difficoltà, diciamo, difficoltà che sono provenute dal Covid, dal problema di mandare avanti i lavori. Questa volta invece ci si è messa di mezzo alla burocrazia. Buco nell'acqua, la piscina non apre, si torna a nuotare alla Dini Salvalai. I gestori ci sono, l'impianto è pronto e tutto è definito. Mancano però certificazioni e abilitazioni e la complessità per ottenerle ha sorpreso anche il Presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola. L'impianto è terminato, ha detto, mancano le certificazioni e le abilitazioni. È una questione di burocrazia e di competenza tra diversi enti. Procedure complicate che hanno preso in contropiede la Fondazione che, una volta ultimati i lavori, non si aspettava di dovere fare i conti con tempi così lunghi. E per il momento dunque riapre la piscina Dini Salvalai. Nella seconda pagina del resto del Carlino abbiamo una intervista a tutto tondo al Sindaco Massimo Seri, il quale parla, interviene sulla nuova biblioteca federiciana, sul progetto dell'addendum della Giunta che dovrebbe essere fatto alla biblioteca e poi anche il suo giudizio sul monastero trappista, la variante di Gimarra, Viale Cairoli, intervista a tutto campo con il Sindaco Massimo Seri. Ormai rimarrà in eredità alla prossima Giunta? Secondo la risposta a questa domanda, Seri ha detto, è stato fatto un lavoro importante che non andrà sprecato perché il piano regolatore generale impostato darà risposte significative ai nuovi bisogni dei cittadini. Questo è quanto, insomma, in conclusione di tutti questi progetti ha esposto il Sindaco. E poi anche il resto del Carlino interviene sulla settimana regionale africana. Vediamo questa foto significativa di un grande rinoceronte, si tratta di Ganda, il rinoceronte a grandezza naturale, che sarà domenica prossima in piazza 20 settembre, che ovviamente costituirà una fonte di attrazione per tanti, tanti bambini e qui si terrà anche un laboratorio di percussioni per i più piccoli. Caos scuolabus, così non va, a Colli al Metauro, lettera al comune di 40 famiglie. Dopo i disservizi dei primi giorni di scuola per quanto riguarda i trasporti, i genitori chiedono un servizio efficiente e comunicazioni certe. L'assessore Mascarucci risponde, abbiamo chiarito con la ditta, sono ripristinati i mezzi e fermate per oltre 700 bambini. Quindi i problemi che si sono creati, come la corriera troppo grande, che non riusciva a passare in tutte le vie, l'autobus sostitutivo più piccolo si era rotto, ora si cerca appunto di riparare a questi danni. E poi per quanto riguarda le accuse del gruppo di minoranza sull'impianto di Pieve Canneti, siamo a terre roveresche, interviene il sindaco Sebastianelli che replica, non c'erano criticità tali da chiudere la piscina, valori a posto, zero rischi per quanto riguarda la salute degli utenti di questo impianto natatorio. Perdutamente a Urbino, il film sull'Alzheimer è stato realizzato dall'attore toscano Paolo Ruffini che giovedì sarà presente alla proiezione. Assessore Foschi, purtroppo le famiglie sono ancora pressoché sole per quanto riguarda questo problema che in tutto il territorio incombe su circa mille famiglie che purtroppo devono sorbirsi sulle loro spalle tutte le incombenze per questo grave problema che esiste. Il comune è senza personale, la gente pulisce il paese da sole. Questo accade a Monteguiduccio, ecco qua il titolo. Vista la situazione, la popolazione non protesta e corre ai ripari con scope e ramazze. Finalmente un buonsenso civico che viene posto alla ribalta. Svendono la mia casa all'asta, piuttosto mi incateno al cancello. La protesta di Lauro Tomasetti, di fratte di Sasso Feltrio, che si crede appunto vittima di un sopruso e tenta di tutto per cercare di difendere la sua proprietà. Vediamo ancora Cantiano. La musica vince, un concerto non stop di otto ore, successo per questa iniziativa benefica con 26 band che si sono alternate sul palco. Dove c'era il fango ora c'è tanta allegria, gioia e tantissima voglia di ripartire. Ebbene Cantiano ha tanto bisogno di solidarietà, ma ha anche bisogno di serenità e di fiducia nel futuro. Grazie alla giunta di Fano, alla giunta Seri, è stato possibile far accorrere nel paese dell'alluvione tanti, tanti gruppi musicali. Lo vediamo qui sottolineato da questo trafiletto. Ebbene a Mercatello sul Metauro è in arrivo il super gasdotto che taglia l'Appennino. I comuni della provincia coinvolti sono a Pecchio, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace. Il tracciato è stato già deciso. Vediamo anche qualche notizia che arriva da Pesaro. Porto, terminata la Pax estiva, abbiamo visto come anche il Corriere Adriatico evidenzi la necessità del dragaggio, cosa che fa anche il resto del carlino. Tra Nuova Darsena e Dragaggio è tutto fermo, attacco all'autorità portuale. Mamma e papà l'attacco, pediatria, accuse assurde, noi non siamo manovrati. Le famiglie replicano l'assessore Salta Martini. Dopo la manifestazione ci spieghi le strategie della Regione. Non abbiamo dietro alcun partito perché Salta Martini aveva replicato dicendo che l'iniziativa di protesta era frutto di un'azione politica intentata dal Partito Democratico che a suo tempo aveva trasferito tutto il reparto da Pesaro a Fano e invece lui poi l'ha riportato a Pesaro. Ora le mamme invece dicono che la politica non c'entra, c'entra invece l'esigenza di un servizio che per noi è fondamentale. E poi vediamo questo articolo per quanto riguarda la scuola. Lampedusa non è molto lontana, anzi è vicina. Morì con la pagella attraversando il mare, il Mengaroni lo ricorda. È stata così posta una formella, una formella sul pavimento vicino alla scuola, una formella del ricordo incastonata all'ingresso del liceo. Ricorda un ragazzo che pensava che in Europa avrebbe potuto studiare. Qui lo si aspettava. Ogni insegnante giusto, l'avrebbe accolto. Aveva con sé la pagella per documentare i suoi trascorti scolastici. E poi concludiamo la nostra rassegna stampa con questo traffico di cuccioli clandestini. Condannato un camionista rumeno sorpreso a trasportare dei cuccioli che provenivano da oltre frontiera. È stato bloccato nel maggio del 2021 lungo l'autostrada A14 da una pattuglia della Polizia Stradale. Il giudice gli ha inflitto al quattro mesi di carcere e una multa da 3.500 euro. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie. Grazie.